ok allora ciao raga allora siamo appena ritornati e noi raga anche se stiamo nel bergo gli abbiamo preso la torta perché per noi io non so quale sia è una tradizione questa raga è l'hotel ma non so se lo mettiamo a vedere e niente questa è praticamente l'entrata la prima volta che siamo qui a 4 star 4 stiglie o non è vero dentro oggi come hanno grazie a tutti vi diamo e raga in questo hotel ovviamente ci doveva essere anche la scheda perché non potevano darci la chiave e quindi niente siamo alla camera 332 yes oddio quale ci abbattere stiamo qua no vabbè andiamo vediamo vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' questa c'è qua cosa c'è la camera e Giulietta la torta tra poco apremo la torta o faremo un giochino non si sa non si sa vediamo un po' ma che si è capace scusa aspetta dai io ti vedo io per favore no questo è mio attenzione che si stanno fregando le attenzione si fregando attenzione caramelle oddio questo è mio cosa è tua cosa è tua questa perché è tua l'accappatura io la voglio l'accappatura lei parla dell'accappatura non viene mi piace questa camera mi piace la porta chi è la porta chi è la porta chi è la porta un attimo anche se non metti la scheda le luci non si accedono se non metti la scheda le luci non si accedono oddio raga non ci sta capendo ma che bello te che hai scelto questo è per il tuo compleanno ti ho trattato bene si vediamo un po' aspetta giura dove sei giura oddio raga ho un gioco di quasi di cortesia non ci interessere un po' 3 2 il bagno no no vabbè no vabbè non c'è il bagno no vabbè io la mattina mi devo guardare per lavarmi non fate danni non fate danni incominciamo peper ci sono i bicchieri c'è il portamodo c'è il portamodo aspetta oh mamma allora ci sono un pacchetto di patatine questa roba bisogna capire quanto costa insomma c'è sì c'è qui il prezzo vediamo un po' vediamo un po' scopriamo un po' questi prezzi scopriamo i prezzi siamo curiosi siamo curiosi siamo curiosi però penso diciamo allora acqua minerale water 2,50 euro sinceramente vado là fuori 1 euro e me la prendo grazie fuori alla camera c'è la macchinetta che la prendo non siete coerenti non siete coerenti poi poi vediamo andiamo avanti andiamo avanti coca cola 4 euro si vado là fuori coca cola 4 euro nella macchinetta 2 euro costa 24 euro stessa cosa della coca cola birra 6 euro birra 6 euro cioè io non la bevo la birra fortunatamente che schifo ne basta poi andiamo avanti succo di frutta 3 euro famiglia facciamolo vedere e snack 3 euro facciamolo vedere questo menù facciamolo vedere siete un po' cari però fuori hanno messo anche la caramella no vabbè quella è un'offerta una buona caramella di cortesia ognuno 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 sono sparite no che bello raga hanno messo una caramella in ogni letto questa è impazzita 13 anni 13 anni proprio messa male che bello dormiamo vicine no tu dormi la io dormo va bene ci vediamo tra poco ciao 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 ok allora parla tu perché tu sei tutto io guido io guido te allora abbiamo appena finito di lavarci abbiamo fatto tutto abbiamo passato una bellissima giornata domani esatto e ora è il momento di farti vedere molte cose avremo questa torta sì la torta è stata fatta così ma l'abbiamo fatto anche al compleanno di Giulia semplicemente perché portare una porta da Napoli no aspetta però secondo me cioè spegnere la cannellina su una torta oppure anche sul pasticcino si fa sempre esatto porta fortuna mi raccomando esprimete un desiderio quando spegnete le cannelline l'abbiamo acquistata qui nella pasticceria che si trova in zona esatto al momento quindi non abbiamo potuto fare decorazioni non abbiamo potuto fare scritta Marche oppure la va bene dai iniziamo 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 sono curioso subito l'apriamo allora subito l'apriamo accendino ah partiamo subito la torta no io volevo fare prima tu questi palloncini in giro no io vorrei fare questi palloncini in giro in giro dai facciamo che cosa sono questi palloncini allora vieni qua metti qua dai devi fare una cosa è buono in questa camera tu non abbiamo portato le luci e purtroppo no aspetta allora devi trovare i palloncini tutti ma neanche uno te ne devi far mancare perché perché ci sono delle bigliettini dentro ok e le devi mettere su tutto questo letto poi quando è finito ti scoppio no quando lo prendi lo decidi scoppi con questa penna e basta allora quindi raccogli prima tutti i palloncini presenti in camera ok allora mi metti sul letto raccogli tutto raccogli tutto lei non gli dì niente raccogli tutto e metti tutti i palloncini sul letto dove stanno gli altri voti o non voti vai marghe vai la le nascondi no vai io la seguo perché comunque tu la devi seguire io ho diventato un nascosto i palloncini lato altro palloncino sì eccolo qui eccoci qua ok allora apriamo il primo ok mamma è caduto un fogliettino cerchiamo che il bigliettino e leggi la scrittura di mamma cerca vicino a lettere ora quale è detto fai una cosa questo lascialo all'ultimo Giulia e quale è detto ma cerca cosa è? dai cerchiamo le rette dice le rette fuoco 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 stai incendiando tutta la casa tutta la camera guardate la pace di Giulia mi è contenta che la sorella ha detto che è carina oh una come che bella si io l'ho assolutamente la sapevo a mangi la sapeva lei mi è contenta Giulia e lei anche un bacio mi dà si ovvia che ti do il bacio ma l'ho appaggiatto per così vabbè diamo ho voluto a scoppiare veloce mamma mia allora e anche vicino allo specchio non c'è più l'abbiamo spostata no l'abbiamo spostata va bene allora quindi questo curva dopo ti diamo un indizio noi allora ok ma dove ho messo il cuore così raga sono contenta perchè fra le ho viste con la cover oh che bella ti amo sorellina pure io mua da morire rosso sei speciale per me devi vedere su rosa no il pink ballo all'ultimo è più bello è volato tra i miei capelli va bene non so sinceramente sei unica non vorrei fare la mia stessa mi è mi è rotta la guancia non ho già eccolo guarda un po allora scopriamo sei contenta? ti piace? si sei il mio tesoro lo vedi che è rimasto sulla? la lanciuga negli altri sono vuti? no questo è pieno questo è pieno vuoto sei morbido oh mamma la cosa più bella di questo video sono le mie facce mentre si scoppia i palloncini non è benissimo che sarebbe girata lalle no scusate ma è una cosa molto importante ci sei quasi sai che mamma questo no come no? allora ci dobbiamo dare l'indizio perso l'indizio perso allora in questo qui c'è una cosa scritta che deve vedere alla fine di tutto l'ho messo qua dentro perchè è l'unico palloncino allora l'indizio lo devi cercare in alto in alto però in alto cerca in alto in alto tipo soffitto l'indizio 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 aspetta prendete Giulia lo prendo io avete fatto gli alti chiudi gli occhi devi vedere un altro cuore che bello tu sarai riconvinto che ti ho fatto un regalo bellissimo per chi ti conosce ok adesso passiamo alla fa la vedere fa la vedere quali metti tra le due? a me piace anche l'altra fammela vedere ok adesso passiamo al pezzo forte alla torta dai finalmente spegniamo queste marghe spegniamo queste 13 candeline ecco il momento della torta marghe sei attesa? è la torta che chissà se ti piace la torta che ti piace farla vedere aspetta farla vedere farla vedere è un tiramisù a frutta vediamo chissà come sarà Giulia non lo fa cadere che bello io amo il tiramisù guarda qua questo dai metti le candeline che spegniamo dai fai mettere le candeline vai vai metti metti stava un accendino qua sopra c'è? si è rotto il treno io l'ho detto che lo dovevi prendere e che dovevo prendere? c'è anche a Giulia la stessa cosa aspetta vediamo di aggiustarla un attimo sciogliamo poi attacchiamo un attimo fatemi fare questa operazione ok mamma eccoci qua con il 13 riparato fatta la relazione qui la metti vicino alle 16 quindi tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a madre tanti auguri a te eeeh auguri un bacio 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 grazie ti amiamo ti amiamo giuri capite? allora vogliamo fare questo taglio della torta a questo punto vogliamo fare il taglio della torta dai taglio taglio facciamo la torta facciamo la torta la tesura qui non lo voglio fare no dai la toglia si deve fare questo non so piano però se non vive la torta giura tagliela dai va bene allora allora taglierò dai ok dai prova un pochettino tu e poi ci vediamo dopo ok mamma c'è un piattino se tutto ci siamo attrezzati dici un piattino perché guarda Giulia oggi le guardature fanno un po' pena perché non siamo attrezzati qui ecco qua si sciolta forse dai prova com'è? buono? auguri di nuovo a questo punto la mangiamo ci vediamo dopo auguri di un amore l'ho preso il boccone in bocca ciao 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 raga raga stiamo uscendo ok io sto andando un attimo indietro vi faccio vedere un attimo bene guardate questa è una montana qui c'è un piano lì vabbè lì vabbè c'è tipo un'aria relax tra virgolette è questa qui bellissimo raga è pazzesco bellissimo ok si relax tipo ora ora vai vado vai vado vai ok che si ha rompito con me ho detto dove cavolo sei andato a finire dove cavolo ti corri e niente quindi questo è todo ora non sapevo nemmeno dove si è andato a mangiare perché Giulia quando è il showdown avevo poi il mcdonald e quindi i pari ora sceglieremo Giulia che sta succedendo? stavo un po' pensando dove siamo? siamo al mcdonald però se io volevo andare a roll drop va bene dai, è una proprietà dell'offerta io ho pensato che paga ma tipo i miei panini quelli saporiti, quelli con giallo tafferano praticamente costano 2 euro con l'offerta wow bomba e quindi niente ora lo aspettiamo 169 non lo muovi raga, chi vive a Roma? 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 e viene in questo mcdonald qua prendete il 169 pomezzo pomezzo che io non conosco pomezzo vabbè dai attendiamo l'hai preso? io ho preso un saporito e un saporito allora io la chiamò Lalle perchè non riuscivo a chiamarla Marghe e allora io invece di chiamarla Marghe facevo la 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 e allora mi riuscivo Lalle e io ero piccola e mi è rimasto sempre Lalle ma ci vado a andare lì dopo anche e non ci va andata a rottare io non voglio il sunday voglio quello là quello doppio perchè oggi accontriamo quello doppio pane ok raga allora ci sono arrivati gli ordini praticamente abbiamo preso le patatine e il nuovo panino perchè c'è appunto l'offerta e poi abbiamo preso un gran crispy e poi mamma e babbo ha sempre il panino quello l'amico non mi riuscire sei contenta? si però vabbè contenta amici noi mangiamo ci vediamo dopo raga allora vabbè tagliamoci raga allora praticamente siamo appena usciti dal mcdonald e ci stiamo mandando il gelato e niente niente Giulietta dove sei? ehi ciao mamma ciao Giulia ciao e quindi questo è il tutto esatto peccato però vabbè andiamo sulle giostre tutta la vita a rimandare il son vabbè raga noi entriamo ciao oh mamma ciao 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 ciao